Ogni giorno contrastiamo i traffici illeciti. Il comando regionale della Guardia di Finanza ha dato avvio alla serie di manifestazioni per celebrare l'anniversario numero 250 della sua fondazione. Nella tradizione e il futuro lo slogan della cerimonia di questa mattina svoltasi all'auditorium della Mole Van Vitelliana d'Ancona. Oggi è un appuntamento importante, è un appuntamento di esordio dei festeggiamenti del 250esimo anniversario di fondazione del corpo, corpo della Guardia di Finanza che nasce nel 1774 appunto e che oggi vogliamo festeggiare in questa apertura di iniziative e che poi andremo a descrivere meglio nella mattinata e che vogliono ripercorrere un po' quello che è il ruolo, la storia e il ruolo della Guardia di Finanza che oggi è diventato un moderno corpo di polizia economico-finanziaria. Quindi un corpo di polizia tutto tondo al servizio del paese, al servizio della collettività, al servizio dei cittadini onesti. Un momento per ripercorrere la storia della Guardia di Finanza e parlare delle sfide quotidiane. Le nostre sfide sono quelle di mantenere sempre alto il livello di attenzione sulle possibili iniziative di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico di questa regione, un tessuto economico importante appunto da un punto di vista proprio strutturale, commerciale, industriale. Quindi alto il livello di attenzione, come deve essere alto il livello di attenzione su tutte quelle iniziative irregolari che minano la concorrenza, quindi la libera concorrenza che va a danno del cittadino, dell'imprenditore onesto che si mette in regola con le linee di azione dettate dal nostro ordinamento. E quindi per tutti questi imprenditori noi siamo al loro fianco, siamo in modo sinergico attenti alle loro esigenze e siamo qui per fare in modo che l'economia di questa regione sia sempre al meglio dettata da linee di azioni performanti ed evolute. Nell'ambito della cerimonia anche la commemorazione stoica dei finanzieri Carlo Grassi e Giuseppe Maganucco con mostra fotografica sul fatto di Ancona. Nei prossimi mesi la ricorrenza dei 250 anni sarà festeggiata con diversi appuntamenti sul territorio dal convegno sulla riforma fiscale con la presenza del vice ministro Maurizio Leo alla festa del corpo al porto di Ancona. A Pesaro in programma il concerto della banda del corpo all'auditorium Scavolini. Questa mattina tanti studenti di Ancona ed intorni hanno partecipato alla cerimonia e osservato da vicino le attività della Guardia di Finanza. Gli studenti sono il futuro, il futuro della nostra nazione, è importante che loro sappiano dobbiamo tramandare la nostra storia, la storia è importante, la storia ci insegna tante cose soprattutto ci insegna a vivere e a vivere bene e quindi loro qui sono presenti, presenti in grande numero molti istituti secondari della provincia hanno offerto un appassionato contributo di presenza nella giornata e noi di questo siamo fieri, siamo contentissimi, proprio perché ci deve essere un trait d'union il motto che abbiamo pensato per questo 250esimo è nella tradizione e il futuro e il futuro sono appunto questi ragazzi, questi giovani. Ogni giorno sorvegliamo il mare. Da 250 anni, persone al servizio delle persone. Guardia di Finanza, nella tradizione, il futuro. Grazie. Grazie.